Musica E' tornato un inizio ambiente naturale per la serata delle premiazioni, il polifonico che per la sua 64esima edizione ha fatto nuovamente ingresso all'interno del Teatro Petrarca, la ribalta dove il concorso è nato e dove per anni ha ospitato cantori provenienti da tutto il mondo. A stupire e stravincere questa edizione del polifonico sono stati i Philippine Madrigal Singers che si sono portati a casa il primo premio in 5 specialità core misti, musica sacra, progetto monografico, festival internazionale di canto popolare e Arezzo Colors Prize. E sempre al gruppo filippino è andato il Gran Premio Città di Arezzo che si è portato a casa la scultura a mano di Mimmo Paladino e il diritto di partecipazione al Gran Premio Europeo di Canto Corale che si terrà nel 2017 a Tolosa. Grazie a tutti!